ben ragazzi ciao amici di fisherlandia benvenuti a nuovo video e soprattutto benvenuti al nuovo testing time questa volta in formato medium short video qualche giorno fa sul nostro canale youtube abbiamo appunto fatto un testing time dove vi ho portato alla massima tenuta e abbiamo fatto la prova di carico di rottura del pins meno da 7 centimetri molti di voi mi hanno chiesto di ripetere questa operazione cercando di capire il carico di rottura del gancio centrale in realtà in quel video andate a vedere ve lo lascio linkato qui sopra così lo potete andare a vedere la prova è stata fatta tra l'anello anteriore e l'anello posteriore lago della bilancia se così possiamo dire si fermava circa 18 chili un peso enorme di tutto rispetto per un artificiale che non ha l'armatura passante qualcuno di voi però mi ha detto flavio scusa ma la parte centrale quanto tiene la vediamo subito in questo video però voglio scaldare i motori velocemente facendo un'altra prova una delle parti debole di questo artificiale avendo provato anche le ancorette in video e anche lo splittering anteriore del numero 3 ribattuto faceva fermare appunto l'ago della bilancia lo split del 3 a 13 chili e io vi ho anche detto visto che è la parte quasi più debole di tutto l'artificiale a parte le ancorette qualora dovessimo trovarci nella situazione in cui a pescare troviamo dei pesci veramente importanti potremmo aumentare un po' questo carico di rottura anche se vi ripeto ragazzi io non lo farei mai perché questo artificiale è un artificiale che 13 chili un anellino del 3 ribattuto in acqua vuol dire che stiamo lavorando con un pesce da 20 30 chili cioè un pesce che non è fatto per un artificiale di queste dimensioni però siccome che può capitare lo facciamo oggi visto che quello del 3 fermava la bilancia 13 chili voglio fare il test con uno split ring del numero 4 ribattuto di ottima qualità poi vi dirò che tipo di anello è ho già preso e posizionato come vedete sul nostro dino il nostro anellino abbiamo utilizzato a questo punto una treccia del da 100 libre abbiamo fatto un anello dove lascio la gasa molto lunga perché abbiamo notato che direttamente portava uno scivolamento abbiamo fatto un un uni con più spire sia da una parte che dall'altra e via con questo testing time accendiamo nostro dino aspettiamo che si azzeri poi andiamo a vedere chiaramente quanto è la tenuta della parte centrale del nostro io giuri iniziamo con nostro test iniziamo nostro tiro sottolineo che molti di voi mi hanno consigliato di usare degli occhiali anti infortunistici vi assicuro che queste parti per lunghezza non si vanno molto a spostare da quello che è il nostro dino ma metto volentieri i miei binocoli poi eventualmente grazie a tutti per comunque per tenere la mia salute e è giusto così mi scuso se non sono stato abbastanza sicuro in questa prova andiamo subito e partiamo con il nostro testing time mi sembra tutto in ordine il nostro dino è partito vediamo sono proprio curioso di sapere quanto può essere la tenuta di questo anellino ho fatto già un paio di prove prima di portarvelo a diciamo alla massima tenuta non ho non sono riuscito a rompere il nostro anellino ma per ben due volte mi sono scivolati i nodi sul diciamo sul del mio trecciato ecco perché anche amo molto tra trecciato e nylon amo moltissimo fare dei nodi diversi ecco andiamo quasi si sta quasi ho sentito un crack un attrito guardandolo devo dire che la forma è sempre rotonda siamo già a 14 kg e andiamo e continuiamo il nostro test sta veramente si sta ovalizzando vedo che si sta ovalizzando siamo a 17 kg continuiamo a tirare teniamo fermo il nostro dino vado piano piano per cercare di saggiare quelle ragazzi questo questo anellino tiene veramente il mondo mi si è strappato il trecciato ve lo voglio lasciare così in sovraimpressione impressione guardate com'ha conciato il nostro trecciato da 100 libre si è strappato chiaramente sul nodo non siamo arrivati minimamente chiaramente alla tenuta dei 100 libre questo a significare che questo è un nodo che non va bene sopra e direttamente al nostro split la forma che sembrava quasi allungata è ritornata non lo so guarderemo poi nel video lago della bilancia si è fermato a 20 kg e roti non è un test che voglio abbandonare qua ora andiamo al test di questo video proprio per vedere la parte centrale ritorneremo con questo test di questi anellini del 4 vi dico che questo annullino è un anellino bkk quindi bkk di ottima manifattura di ottima marca neanche da dirlo ma faremo un test allora a questo punto diretto a tutti gli anellini perché no proviamo a esplodere anche magari un solide sempre che il nostro mitico dino ce la faccia rimanete con noi ora andiamo a vedere il carico di rottura della parte centrale del nostro iozzurro siamo pronti abbiamo posizionato il nostro pinsmino come vedete dall'immagine ve lo lascio qua abbiamo collegato la parte anteriore con la treccia sull'anello anteriore e a questo a questo punto ci siamo collegati alla parte centrale tutto è pronto accendiamo il nostro dino mentre lui si porta a zero io mi metto i miei binocoli diciamo fra virulite di protezione e andiamo immediatamente al nostro test via partiamo subito vi ricordo che l'ago della bilancia si era fermato per quanto riguarda la parte posteriore a circa 18 kg vediamo subito non so dirvi se la posizione del nostro artificiale può essere giusta in questo modo mi sembra quasi che stia cedendo a 8 kg e 7 siamo ancora distanti rispetto alla tenuta che aveva la parte posteriore a così a intuito direi che potrebbe tenere meno la parte diciamo centrale del nostro artificiale siamo a 14 kg e mezzo vediamo se riusciamo ancora a farlo aumentare eccoli si è aperto ve lo lascio in sovraimpressione come vedete lo giro appena appena vedete che il nostro nodo ha tenuto in questo caso bene la nostra armatura come vedete si è aperta verso l'esterno continuiamo scusate ancora nella nostra prova chiaramente il tutto salta e questo è il risultato del nostro pins mino che ha fermato la bilancia a 14 kg e 6 quindi circa 4 kg 3 kg e mezzo circa rispetto a quella che è la portata della parte posteriore direi anche in questo caso assolutamente di tutto rispetto vi ricordo che questi test si potrebbero fare come faremo poi con quelli del nodo in tre volte diverse tre test diversi per poi evincere una media che è giusto che sia così ognuno da una esca l'altra potrebbe variare e sicuramente lo farebbe in questo caso direi che ci portiamo a casa una bella indicazione su questo pins mino che devo dire a un altissima tenuta per essere un artificiale che non ha la natura passante molti di voi mi chiedono un sacco di altri artificiali da provare piano piano li proveremo e vi assicuro che scopriamo un sacco di cose veramente interessanti continuate a seguirci ragazzi grazie vi do appuntamento al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al nostro canale attivate le notifiche come sempre seguiteci sui nostri social a questo punto io e vi salutiamo e vi diciamo come sempre diciamo noi che la pesca sia con voi stavo dicendo il nostro bismino ormai c'è più poco da dire ma questo ce lo teniamo sulla scrivania faremo una bacheca di tutti i test ciao ragazzi e grazie ciao